Allora, ciao a tutti, io sono Simone Repetto, sono venuto qua a trovarvi, presidio Notav di Arquata Scrivia, io ovviamente sono venuto soprattutto per mangiare, mi hanno detto che si mangia molto bene, quindi io vengo qui a mezzogiorno e a cena per una settimana, se sono tranquillo che mangio, almeno fino a venerdì, il weekend mi arrangerò, settimana prossima, speriamo che oggi non espropriano, se espropriano settimana prossima io spero perché così torno a mangiare, torno qui al presidio, do appuntamento a tutti, si mangia benissimo, ci sono le signore del paese che portano cose ottime, quindi venite qui l'ottava Moriassi oppure negli altri punti, ciao!